salve a tutti adesso vi parlerò del g2000 garlando che io lo chiamerei il fratello o la sorella del g500 un prodotto sempre storico che nasce alla fine degli anni 90 con delle caratteristiche di gioco e di robustezza praticamente pari a tutti i garlando di alta qualità quindi estremamente stabile con un peso che si aggira intorno ai 70 75 kg a seconda diciamo della della personalizzazione piano gioco in vetro angoli rialzati o mini monofusione sempre come tutti gli altri garlando segna punti a cubetto aste da 1 e 6 con spessore da 2 e 2 ovviamente su tutti questi modelli c'è il cuscinetto tra la sponda e la stecca che aiuta sempre la rotazione e lo sentiamo anche dal suono la particolarità del g2000 rispetto al g500 sono le gambe in questo caso sono gambe inclinate io direi circa 45 gradi poste esternamente alla struttura sempre da rendere la giocabilità e la stabilità del prodotto estremamente alta in questo caso infatti vediamo che è un prodotto che non fa una piega durante il gioco ciao a tutti grazie per aver visto il video e ci vedremo nella prossima presentazione